La storia agghiacciante di John Pork Molti pensano sia un meme, ma non tutti sanno la sua storia reale e terrificante La leggenda di John Pork nasce nel 2010, quando questo uomo maiale comincia a contattare delle persone sui social Principalmente bambini, mandandogli video e foto inquietanti di lui Li chiamava nel bel mezzo della notte e li perseguitava fino a quando non impazzivano Alcuni sopravvissuti da John Pork hanno reso pubblici i video che lui gli mandava E oggi ve li farò vedere Sto per farvi sentire i video che John Pork mandava alle sue vittime Potreste rimanere traumatizzati a vita 3, 2, 1, siete stati avvertiti